Face Jam 4, collo e palpebre. Stiamo parlando di circa 15 minuti di lavoro e partiremo con la rana. La rana contraga i muscoli del collo portando in mente leggermente in avanti e anche la testa leggermente indietro. Questo mette in tiro i muscoli del collo e aiuta a tonificare la pelle. Dobbiamo ancora fare poche ripetizioni e poi recuperiamo e proviamo anche di non esagerare troppo perché questo è giorno dopo. Ti potrebbe riempire di acido lattico. E' eccellente, vedrai quanti muscoli possiamo attivare o quanti muscoli non abbiamo attivato fino ad ora grazie a Face Jam. Continuiamo, proprio ultima volta e poi cambieremo il nostro esercizio. Continuate sollevando il mento, mettendo in tiro il collo e facendo di tutto per tonificare il nostro collo. Adesso andiamo a fare il panda. Per sembrare come panda vado a proprio allargare lo spazio tra il sopracciglia e il sottocchio. E' come se fosse una panda, ok? Proprio due cerchi che seguono proprio l'orbite dei nostri occhi. E chiudo le palpebre. Chiudo le palpebre, sollevo, separo, senza però grinzare troppo la nostra fronte. Stiamo provando sempre di essere delicati, ok? E poi relax. Continueremo a fare questo di panda, perché il panda è veramente un esercizio eccellente per le palpebre, ok? Posiziono il cerchio della mia pollice e indice intorno alle ossa che sono sulla parte subito sotto le sopracciglia e subito sopra lo zigomo. Schiaccio gli occhi provando di mettere in tiro le palpebre. Io li faccio insieme, questo esercizio, con la premessa che questo esercizio potrebbe anche essere fatto solo da una parte, specialmente se ho una palpebra più calata dall'altra, così ripetendo questo esercizio magari la seconda volta che vedi l'esercizio lo fai soltanto da una parte per un braccio. Ritorniamo adesso sul collo, che ritorniamo sulla rana, tiro indietro la testa e comincio a contrare i muscoli del collo. Spingo e contrago. L'altra cosa che voglio anche sempre ricordarvi è, oltre agli esercizi che facciamo per la nostra faccia, che cosa facciamo dal punto di vista del nostro beauty routine? Devi detergere la faccia ogni giorno, devi idratare, devi usare i sieri, devi usare le creme, tipo una crema a pasta bianca, magari a bava di lumaca, che è altamente rigenerante, oltre ovviamente all'acido ialuronico che aiuta a rimpolpare la pelle e stimolare la collagene, perché quando noi parliamo di un beauty routine dobbiamo fare più cose, dobbiamo anche dormire meglio, anche ci siamo. Adesso ritorniamo a panda. Mi faccio proprio sollevare le sopracciglia, appoggio sullo zigomo e batto le palpebre. Questo è un ottimo allenamento proprio per le palpebre, anche le palpebre che sono leggermente lassi o rilassati o calati. Tu vedrai anche dopo pochissimi giorni che queste palpebre diventano più tesi, diventano più tonici, diventano anche più belle, diciamo la verità, questa è la verità. Ok? Ancora pochi secondi perché questo è un esercizio che io ripeto tantissimo perché ho una palpebre più calata dall'altra. E in questo caso io potrei tranquillamente fare questa prossima serie solo della palpebre che è calata. Apro con le dita, sto sollevando, distanziando lo spazio sopra lo zigomo e lo spazio sulle sopracciglia e poi lavoro proprio sulla palpebre che si tonifica grazie a questa attenzione. È un proprio allenamento per la pelle, è un allenamento per i muscoli, è un allenamento anche per gli occhi. Noterai che poi alla fine ti sentirai anche quasi rilassata. Cioè è vero che giorno dopo potresti sentire l'acido lattico, ma altrettanto è vero che questi esercizi io li faccio spesso e volentieri alla fine della giornata come ti danno sollievo, una cosa molto molto bella. Adesso andiamo a ritornare sul collo e si chiama chin thrust in inglese che vuol dire mandare in avanti il mento, cioè il mento scivola in avanti e come potete ben notare lateralmente scivolando che giriamo la testa verso la nostra sinistra e cominciamo ad allungare il mento in avanti. Questo mette in tiro tutto il lato destro del corpo, quasi, se notate bene, si sta anche strecciando o attivando fino alla clavicola, fino alla spalla. Vedi come convolgi tutti i muscoli lungo il collo, tutti i muscoli lungo quella parte del corpo e ci aiuta a avere il collo sempre più tesa. Di nuovo giro, allungo il mento in avanti, sto guardando a destra, non sto facendo questo per farti vedere l'esercizio, devi proprio girare la testa a destra. Andiamo a fare un altro esercizio per le palpebre. La V, ok. Sostengo, posizionando le mie dita a V tra la sopracciglia interna ed esterna, solevo e guardo in basso e batto le palpebre, le tiro giù, così metto in tiro le sopracciglia e poi guardo in giù con la V. Questo è un esercizio molto efficace sempre per la zona delle palpebre perché oggi stiamo concentrando sia sul collo che sulle palpebre. Di nuovo, solevo con le dita a V, dal lato interno ed esterno delle sopracciglia, guardo in basso e batto le palpebre. Ok, stop. Ritorniamo sul nostro collo. Guardo a sinistra, a mia sinistra, e porto la testa leggermente indietro e il mento in avanti, scivolo in avanti e metto in tiro tutto il collo. Guardate o sentite, se volete potete anche posizionare le mani sulle clavicole, vedi che le clavicole vanno in tiro e ti aiuta proprio ad allungare tutto il collo. Perché abbiamo le rughe sul collo? Perché il collo deve avere elasticità, perché ci permette la testa di roteare, abbiamo bisogno di guardare magari in su e il collo deve allungare così. Abbiamo un po' di pelle in eccesso sul collo, ma se alleniamoci tre, quattro volte a settimana, guardate la destra e continuate a fare questa, diciamo, protusione del mento, continuiamo a mandarle in avanti, tu vedrai che il collo è veramente migliore dell'aspetto. potremmo anche sempre mettere un tubo di un tessuto che è attivo per aiutarci durante l'arco della giornata. Torniamo al V. Il V che è la posizione, le dita, l'indice è dito medio tra la parte interna ed esterna del sopracciglio e batto le mie palpebre proprio per aiutarmi a tonificare le palpebre. e questa è una cosa eccellente perché lo sguardo beneficerà moltissimo da questo esercizio. Ripeto, più che sei costante, più vedrai risultati. L'altro consiglio che vi do è di idratarti ogni mattina, ogni sera con un ottimo contorno occhi perché è molto, molto importante nutrire questa delicata zona della zona perioculare. Partiamo alla dentiera. Porto le labbra proprio dietro e sotto i denti e mimo la parola papà, 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 però con le labbra ben ritirate dentro. Lo senterai sia sul collo che su la famosa codice a barra perché sollevo la testa, tiro dentro le labbra e comincio a mimare la parola papà e questo ci aiuta proprio a strecciare sotto, subito sotto il mento, ma anche la codice a barra sopra le labbra. Poi vai a massaggiarti dopo che l'hai fatto perché sono esercizi che possono attivare tanto la zona cervicale e non vogliamo tensioni localizzati. Ripeteremo questo esercizio dopo che abbiamo fatto il nostro massaggio perché è veramente completo per la nostra faccia, per la nostra face jam. Di nuovo a papà la faremo per 20 secondi, mimando la parola papà, portando le labbra sotto i denti e provando di spianare la faccia più possibile, per questo è importante tenere accanto a te uno specchio mentre stai lavorando per aiutarti a vedere la posizione della faccia. Su, tiro indietro le labbra e mimo la parola papà, ok? Ancora per 4 secondi e poi recupereremo prima di continuare perché è molto importante anche massaggiare ogni tanto per aiutarti a decontratturare la zona che cumula di stress quando facciamo questi esercizi, ok? E poi ritorneremo dopo questo bel massaggio su le palpebre, perché oggi facciamo proprio un bel lavoro mirato a palpebre, torniamo, sollevo gli angoli, ok? Guardo in basso e comincio a battere le palpebre, vedi, comincio a capire, magari hai già fatto qualche face jam e comincio a capire qual è l'allenamento che ci aiuta, da una parte ancorare dall'altra parte massaggiare, allenare, allontanare e queste sono le nostre contrazioni come un vero e proprio palestra proprio per la faccia. Ricupera e ricominciamo. Di nuovo, alzo le mie palpebre, eccole qua, guardo in basso, continuo a battere gli occhi, però con dolcezza non stiamo strattonando e non stiamo facendo nulla che deve essere aggressivo sulla faccia, dobbiamo trattarci, coccolarci, volerci bene, trattarci con rispetto, con ogni contrazione che stiamo facendo. Continui ancora, due, uno e ricupero. Di nuovo, ultima volta, o quasi ultima volta, perché questo è un allenamento che io trovo qualcosa di sollevante per il semplice motivo che veramente ti sentirai e ti vedrai nello specchio con uno sguardo più aperto e più libero dopo pochi giorni, perché purtroppo invecchiando cominciamo a perdere proprio l'idratazione del bulbo ocolare stesso. I nostri occhi cominciano a ricedere o tornare un po' più dentro il centro del cranio e il nostro sguardo diventa sempre un po' più diminuito, minuscolo. Invece così, se riusciamo a aprire le pappabre, avremo sicuramente anche uno sguardo più fresco, uno sguardo più aperto, uno sguardo più bello. Ok, continui. Mi raccomando, vai a prendere una crema o un olio o qualcosa che permette le mani a scivolare scivolare sulla faccia perché dobbiamo cominciare a posizionare delle punti di crema sulla nostra faccia, una bella pasta bianca, così ci permette le nostre mani a scivolare ma né troppo né troppo poco perché non vogliamo mai strattonare la pelle. I massaggi, ok, partiamo con il collo, il movimento è verso basso, posso anche trattenere le labbra tra la bocca, sollevando il mio mento per tenere in tensione, per tenere tesa la pelle del collo e massaggio verso basso. Perché massaggio verso basso? Perché ci sono i linfonodi e così, in questo modo posso aiutare i linfonodi a scaricarsi verso il torace, ok, la torace e così passo dal lato destra poi al lato sinistra, passando le mani delicatamente su ogni pezzo del collo proprio per fare questo massaggio che aiuta proprio a recuperare tutto quello che ci serve della pelle stessa, ok, ci stiamo massaggiando e sentirai molto sollievo secondo me dopo che hai fatto questo lavoro perché il massaggio aiuta a drenare, aiuta ad attivare il microcircolo che porta sicuramente più nutrimento, più ossigeno, più attività nella zona perché stiamo attivando il microcircolo. Quando attiviamo il microcircolo siamo a metà strada del benessere epico e ci aiuta tutto il corpo a beneficiare del movimento e dell'attività stessa. Continuiamo a proprio massaggiare per il collo per avere un trattamento di bellezza aggiungendo sempre mi raccomando una crema nutritiva, emolliente, idratante e elasticizzante per la pelle. Adesso andiamo a fare gli anelli di venere, ok, e spiano sempre con le mani che hanno qualche cosa che non crea troppo attrito né troppo poco così, o un olio o un po' di crema che mi permette di muovere le braccia dal centro verso su e verso indietro per spianare gli anelli di venere. Continuo a massaggiare, continuo a proprio, io secondo me è un'attivazione microcircolatoria, non solo piacevole perché è veramente rilassante, ma ci stiamo migliorando la qualità della pelle che molti pensavano che non fosse possibile, invece prova per credere, scattatevi pure le foto. Continuiamo con questo massaggio, abbiamo quasi finito il nostro allenamento, ultime secondi, ultime mezzo minuto, 30 secondi per aiutarci a attivare la produzione del collagene, attivare il drenaggio, attivare la tonificazione e attivare proprio il massaggio, il massaggio che attiva tutto quello che ci serve per sentirci veramente più rilassati, belli e anche giovani. Dai, ultimi secondi, ultime secondi, ricordatemi, trovate sempre su Now, sempre su Energy Hill per aiutarvi ogni giorno.